Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Idrafit. A cosa serve? Idrafit ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per lo sport. È commercializzato in Italia dall'azienda Named Sport SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Named Sport SRL. Concessionario. Named Sport SRL. Categoria di appartenenza. Integratori per lo sport. Forma farmaceutica. Polveri orali. Confezioni. Idrafit. Polvere 400G. Descrizione e caratteristiche. Prodotto dietetico per sportivi e base di carboidrati e sali minerali, ideato per la preparazione di una soluzione elettrolitica ipotonica, o smolarità 190 MOSM-L, utile per reintegrare le perdite idrossaline dovute alla profusa sudorazione durante un'intensa attività fisica, con aggiunta di vitamine del gruppo B e vitamina C. Punti di forza. Gusto rinfrescante e dissettante. Reidrata efficacemente. Magnesio e potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare. Vitamina C e magnesio contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Le vitamine C e B6 favoriscono il metabolismo energetico. Gusto. Red Orange. Avvertenze. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata di uno stile di vita sano. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.